. Rosem Ghovan, Twitter le sospende l'account dopo le denunce a Darway Weinstein. Anche cara delle vigne lea Seilux molestate Darway Weinstein, i terrificanti racconti delle attrici. . Ancora accuse di molestia firmate Harvey Weinstein in arrivo da attrici hollywoodiane. E' davvero incredibile quel che è capitato a Rosem Ghovan. . L'ex volto di streghe, tra le prime attrici d'America a denunciare pubblicamente lo scandalo Harvey Weinstein, e da giorni molto attiva e polemica nei confronti di chi ha taciuto per trent'anni coprendo le molestie del produttore, è infatti andata incontro ad una censura social. . Il suo account Twitter, come rivelato tramite Instagram, è stato sospeso per 12 ore. Violati termini del servizio, le ha fatto sapere il social network, senza specificare quali violazioni avrebbe commesso l'AMC Ghovan, giustamente stizzita dalla mannaia caduta sul suo profilo. . D'altronde è raro che Twitter sospenda un account, a differenza di Facebook dove tutto ciò avviene molto più frequentemente, con Rose non solo molestata da Weinstein, a suo tempo, ma ora persino punita per aver cavalcato l'onda di indignazione che ha travolto il produttore per mei Oscar. . . . .